Ciao a tutti, sono Maria Vittoria e sono il primo anno della Facoltà di Medicina a Kosice, Islavakia. Tramite Medico Tutoro ho avuto la possibilità di iniziare questa bellissima esperienza che mi ha permesso di avere una grossa crescita personale, nonostante si è lontani dalla quotidianità in Italia. L'università è basata sul metodo interattivo all'interno del quale è possibile interagire con studenti da tutto il mondo. Adesso inizierà una piccola visita della città. Kosice viene anche chiamata la piccola Praga della Slovacchia. Nella via principale, Lavna, possiamo trovare la Cattedrale Sant'Elisabeth. Alla fianco della Cattedrale Sant'Elisabeth possiamo trovare un parco all'interno del quale c'è una fontana musicale. Alle spalle il piatto principale della città di Kosice. Kosice è la seconda città più grande della Slovacchia, una città a misura d'uomo, una città universitaria in cui è possibile trovare tutte le facoltà. Una bella città per il divertimento, dove sulla via principale, Lavna, si possono trovare ristoranti, bar e negozi. È una città ben servita, soprattutto con i collegamenti dell'università, dove si può andare con tram o autobus. In più, un ottimo collegamento con le altre città europee tramite un piccolo aeroporto. Per quanto riguarda la situazione Covid a Kosice, dopo un rigido lockdown di 40 giorni, la città ha ripreso a pieno le proprie attività. Spero che questo video di presentazione della mia esperienza della città di Kosice vi possa servire per intraprendere questo benissimo percorso. Spero di vedervi qua a Kosice il prossimo anno. Ciao, ciao. Ciao. Grazie.